Massimiliano Fedriga, la Lega Nord chiede al Governo di abolire le pensioni d'oro. Qual è la proposta che intendete presentare in Aula? Noi abbiamo già presentato e depositato in Commissione e iniziato l'esame, ma la maggioranza del Partito Democratico ha bloccato, ovvero per chi prende più di 5.000 euro netti al mese, andare a fare un ricalcolo contributivo. Questo perché? Perché chi ha versato realmente i contributi e quindi prende indietro i suoi soldi è giusto che lo faccia perché lo Stato non può andare a pescare nelle tasche di chi i soldi gli ha messi all'interno dell'Inps. Purtroppo ci sono molti, invece soprattutto dipendenti pubblici, alti dirigenti pubblici, alti come il di Stato, che magari nell'ultimo mese si sono visti arrivare una promozione che, guarda caso, serviva per arrivare a pensioni di decine di migliaia di euro al mese. In quei casi i soldi ovviamente non sono stati versati all'Inps come contributi, ma è una pensione immeritata e assolutamente vergognosa, sarà portata oltretutto in un momento di difficoltà economica a coloro che non arrivano a fine mese. Noi chiediamo che quei soldi vengano tolti a queste persone che non ne hanno diritto perché quei soldi non li hanno versati e vengano utilizzati per rivalutare le pensioni che i due ultimi governi, a maggioranza PD, hanno bloccato. Ricordiamo che hanno bloccato anche le pensioni, la rivalutazione delle pensioni, sopra tre volte il minimo, che vuol dire circa 1000 euro netti al mese. Meno male che il Partito Democratico era il partito vicino alle fasce in difficoltà della popolazione. Si è dimostrato invece un partito che va a scippare le persone che stanno peggio nel nostro paese e continua invece a tutelare coloro che prendono pensioni d'oro e non ne hanno diritto.